Alla Stamura praticano sport all'incirca su 400 ragazzi, suddivisi tra la sezione atletica, vela e judo. Preciso che la Sextamura sta per Società Educazione Fisica Stamura. Stamura alias Stamira, che era l'eroina della città di Ancona, chiudo la parentesi, quindi per quel che riguarda i velisti, piccoli velisti, l'attività viene praticata nel porto turistico La Marina Dorica. La vela, secondo me, crea una sicurezza nel poter gestire la natura, perché ovviamente sei col mare, sei con il vento, il sole, la pioggia, il freddo, quindi crea molta sicurezza, molta autonomia. E poi il fatto di condividere queste realtà, anche se sono sport singoli, ma condividono queste realtà con gli altri, con gli altri compagni, come con gli avversari, perché poi crescono anche con gli avversari. I ragazzini che a febbraio tornano dopo un allenamento in mare da soli, ed è notte alle quattro e mezzo, e delle volte mi evita pure, e arrivano sorridendo, perché un genitore che li prende e vede il figlio che sorride, è il massimo che si può chiedere ad uno sport. Grazie per la visione!